L'Atalanta vince per 1-0 contro lo Young Boys e conquista così il primo posto nel girone di Champions. Una partita che non è stata magari divertentissima, ma ha mostrato la grande capacità di lettura delle situazioni e la grande mentalità europea di questa squadra. Come al solito faccio alcune considerazioni, ovviamente a titolo personale, poi voi nei commenti siete liberi di dire la vostra. Circa la prestazione, quello che mi preme sottolineare è l'atteggiamento che ieri l'Atalanta ha messo in campo, un atteggiamento europeo, un atteggiamento internazionale, un atteggiamento estremamente maturo. Molti nell'ultima settimana hanno parlato di un'Atalanta che segna meno, che è meno aggressiva, con un'accezione negativa. Ma ieri, anche dalle interviste, è emerso che in verità questo è l'atteggiamento che l'Atalanta sta cercando, che sarà forse da un punto di vista dello spettacolo meno divertente, però in un'ottica di dover crescere e migliorarsi costantemente, forse è l'unico passaggio obbligato per raggiungere degli standard ancora più alti di quelli che noi oggi abbiamo. Si è vista una squadra che ha fatto una fase difensiva praticamente perfetta, un solo errore, una sola discesa dello Young Boys pericolosa, complici mediani che vanno sempre a tamponare le discese dei difensori e una manovra d'attacco che non è mai stata mai dettata dalla frenesia o dalla necessità di dimostrare. Quasi come questa squadra ormai sia conscia che non deve più dimostrare di stare in Champions League, di avere il diritto di starci, ma è una squadra che è conscia di essere forte, di essere capace e di avere al suo interno i giocatori in grado di saper sfruttare le situazioni, di saper sfruttare gli attimi e fare gol. Una manovra d'attacco quindi costante, veloce, perché comunque è stata molto rapida, ma ragionata. E questo secondo me è l'elemento che ci deve restare di più di una partita che l'anno scorso avremmo giocato totalmente sbilanzati, agguerriti, e che magari sarebbe stata per il pubblico più divertente, ma entro oggi commentiamo un 1-0, che poi, se vogliamo dirla tutta, l'Atalanta ha avuto diverse occasioni, una anche clamorosa, è stato negato un rigore, quindi il risultato poteva anche essere diverso. Però quell'atteggiamento lì è qualcosa su cui secondo me dobbiamo riflettere, perché ne ha parlato per esempio anche Pessina durante l'intervista, dicendo che il mister gli vuole dare questo spazio fra le linee per poter aggredire, e di conseguenza poi tutta la manovra assume un nuovo atteggiamento. Per quanto riguarda le prestazioni, in generale tutta la squadra ha giocato bene, ma mi premo sottolineare due giocatori. Uno Zapata, che si è sobbarcato tutto il lavoro offensivo, ma proprio dietro questo lavoro offensivo si muove la nuova manovra d'attacco, perché Zapata, che fa scudo, che raccoglie su di sé gli avversari, è il partner ideale per un Malinoski che fa la seconda punta, perché Malinoski più vicino alla porta è pericoloso, perché se Zapata tira su di sé gli uomini, Malinoski può usare meglio le sue carte, e probabilmente Malinoski in area di rigore, o vicino all'area di rigore, riesce a sfruttare quelle doti tecniche creando occasioni molto più difficili rispetto a quando parte da lontano. Allo stesso modo, il lavoro delle fasce consente a Pessina di sparire un po' fra le linee e buttarsi in mezzo. È evidente che Pessina, come ha detto lui, deve ancora lavorare, perché non ha quella freddezza, quel cinismo sottoporta, e sottoporta è questione di attimi, però l'impressione è che ci sia un piano, e che questo piano tutto sommato funzioni, e funzioni anche bene. Inoltre voglio anche sottolineare una cosa, ieri era la classica partita che si può mettere male, perché ti annullano un gol, perché Gosens si fa male, e non ci sono stati cinque minuti, dico cinque, di ansia, di frenesia, di iperventilazione, di sofferenza. L'Atalanta ha fatto come se niente fosse, ha rimesso il pallone per terra ed è tornato a giocare, giocare con maturità, con concentrazione, e con serietà. Io l'ho letta in una maniera estremamente positiva, perché è una prova di carattere notevole, perché va sicuro che giocare una partita in Champions, con tutti gli occhi puntati, a Bergamo, davanti al proprio pubblico, per la prima volta fra l'altro, e vedere che fai un gol, e te lo annullano, che uno dei tuoi giocatori più forti si fa male, insomma, poteva destabilizzare, e invece si è rimasti totalmente concentrati. Infine, fatemi fare questa chiusura. Tutti hanno parlato di questa Atalanta che non segna, che non convince, e quant'altro. Io vi dico, dall'inizio della stagione l'Atalanta ha avuto un lento e costante miglioramento. Oggi siamo abbastanza vicini alla miglior condizione, che non è la miglior condizione degli anni scorsi, che non è la miglior condizione che abbiamo visto delle goleade, o del gioco frenetico, ma ciò non toglie che questa nuova condizione, che questo nuovo modo di giocare, possa portarci grandi risultati, e forse anche risultati più importanti di quelli che abbiamo ottenuto finora. Un po', perché secondo me, meno rischi, vuol dire più possibilità di portare a casa il risultato. Un po' perché io ho un'estrema fiducia in quel signore in panchina, che secondo me è il migliore in Italia nel saper leggere la squadra e capire come tirare fuori il meglio. È solo questione di lavorare, di aver pazienza, e di avere fiducia. Io come al solito vi ringrazio, vi lascio tutti i miei riferimenti in descrizione, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!